CERCHI QUALCUNO? No, no. E allora chi guardi? No, è che fino a poco fa c'ero io qua. E allora... Adesso ci sono io. No, volevo sapere... E tu alla stanza? Come scusa? E tu a questa stanza? No, no. Allora non ti impicciare, scusa. Ma non mi sto impicciando però. Ah no? Stai sbirciando? Che cosa vuoi? Ma che cosa vuoi tu? Scusa, ma che vuoi? Eh? Guarda questo. È tutto uguale, non ci posso credere. Pure i guardoni ci sono. È arrivata. A fare finta di niente intanto buttano l'occhio per guardarti. Un po' ti rispetto. Ma non vi vergognate? Minimo, no? Non si vergognano fuori, figuriamoci qua. Comunque se si sta calmi qui si sta anche bene. Lo dico come consiglio. Se uno si rilassa si può stare bene. E meno schifo vi fate. Ma schifo cosa? Cosa schifo? No, no. Non vi fate schifo, no. Ma vi fate chi? Chi? Meglio tristezza? Non vi fate un po' di tristezza? Questa stanza non se la merita gente così, eh? C'è una storia... Ci sono state anche cose belle qua dentro, capito? Non se la merita così. Io me ne vado presto, sta tranquillo, eh? Te la puoi riprendere la tua stanzetta preferita. Grazie. 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 Grazie.